ragazzi ok amici ma tu sembri un assassino ma tu sembri un assassino oh sto a zapparino no dai metti via dai tu metti via tu lo cagnau non bestemmiare mazzo ho del mio camion mi guardi sei chi ha visto lì su buon giorno buon giorno si andiamo però il video andiamo ok possiamo andare la preparazione da prendere l'acqua ma quella lì è la caldaia che mi porta l'acqua calda su? no la luce la luce quanto è un video unico lo fai a party lo faccio a party stupiamo il teatro io che ho chiuso dall'ultimo video parla un po' cosa faremo in questo video cosa farò cosa farà in questo video chiuderai il garage? però che video non c'è potete venire a casa mia per rubarlo invece, tutto va bene va bene va bene va bene macchina che trova sono precalci possiamo andare no, no, io non ce ne ho voglia non ce ne ho voglia ah fra, ma... che tu coproni? cosa facciamo qua? appunto, ma io dico allora, io farò alle 24 ore sveglio si, cadrò alle 2 di notte guarda, lui bara non è vero ma scatta, è dura questo video fino a stasera ragazzi, io sono giuramato siamo a casa mia posso andare su a bere, sai che è posso andare su a bere è casa mia questa cosa ridi? no 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 no, mazzo, mazzo, mazzo mazzo, mazzo, mazzo mazzo, c'è un telefono mazzo, 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 mazzo ma cos'è, birra o acqua acqua piovante mamma, vai cagare ok che cosa? ci penti una, faccio hatta, patta, patta, patta l fyra a te boh andiamo dai no non voglio adesso ci vuole nel telefono no vovoo 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 ok tanto andiamo su e che cazzo facciamo ok stiamo partendo andiamo sta diluviano aspetti che si scivola io provo ci sei guarda che va dentro mano quello ma cosa fa c'era la catena che mi cascava maso ci dovevamo attrezzare via sotto qualcosa prima che diluvi ragazzi c'è un problemino non riesco ad andare su ok ci vediamo su ragazzi perchè sta diluviando ok ci ho fatto sta diluviando e si sta facendo la fotocamera dovrò fare le 24 ore sveglio perchè ho perso una sfida con un mio amico e quindi ci troveremo su ok siamo arrivati in fu ciao ciao si sono tutto bagnato dove ci possiamo asciugare si no no tutto no mi sono formato mi sono formato perchè dovevo mettere la fotocamera in tasca si 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 e poi e poi finalmente siamo arrivati in bambini il cielo il cielo infatti il cielo sono tutto bagnato si mi ascolta infatti perchè non l'abbiamo ascolta tutta la zona l'abbiamo ascolta l'abbiamo ascolta adesso stiamo qua finchè non ci mette come qui qui il tasto lo sono tanto bagnato lo faccia veicocco lo facciava finchè sì però mi ha raccontato lo sono bagnato nelle gampi se si bloccherà la registrazione farò la seconda parte così dura anche questa faccio due parti dopo quando mangiamo farò l'altra intanto che stiamo qui e facciamo qualcosa registro e poi quando c'è ci stopperà farò quando c'era di casta musca di merda quando mangiamo prendi qualcosa da mangiare mazzo i ragazzi addirittura con l'artiglieria pesante stamattina oh allora è pomeriggio comunque grazie 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 Cosa mangi? E' un forno Cosa mangi? Si stava tirando fuori il celular Ci sono Ora quanti? Me li riesci a prendere? Basta che non si mix A quali altri? 10 E io 3 da 5, questi qua Forse ci stanno Sì, sì, qui ci stanno Dammi un minuto Bisogna prendersi più Sei diventato ricco Sì, più meno Non mangio niente Mi tengo la fame Ciao, no, no Vabbè No, metto qua Un po' di nuovo Sì, un po' di nuovo Contreremo una seconda Guardiamo il giorno Un po' di nuovo Un po' di nuovo Un po' di nuovo Grazie a tutti